Il venerdì santo del 1905 per l'ultima volta predicò al Calvario durante la funzione della crocifissione di Gesù. In quella occasione disse al padre visitatore, mio padre questa predica che ho fatto è l'ultima, la fine si avvicina. Nei primi giorni del mese di luglio dello stesso anno il dottor Lavecchia constatò che le condizioni di salute di padre Gioacchino Lalomia erano gravissime, ragion per cui la sua fine era imminente. Il santo Cappuccino per nulla preoccupato disse per ora non muoio, per morire deve essere qui presente il padre Ignazio Daporizzi. Sabato poi attendo il mio confessore che non si trova in paese. Padre Gioacchino ebbe ragione, ogni cosa si avverò come lui aveva detto. Alla notizia dell'imminente fine la gente accorse nella speranza di poterlo vedere e di poter ricevere per ultima volta la sua santa benedizione. Il 28 luglio si fece portare davanti alla finestra della sua cella per impartire la benedizione ai numerosi fedeli che assiepavano la piazzetta antistante il convento e le vie adiecenti. Il 30 luglio alle 20 all'età di 74 anni lasciò per sempre la terra per ricongiungersi con il creatore. Alla notizia della sua morte da Palermo a Caltanissetta, da Girgenti, moltissimi fedeli vennero a Canicati per rendere l'ultimo omaggio al santo Cappuccino e per implorare grazie. Per il mantenimento dell'ordine pubblico si rese necessario chiedere l'intervento del 68esimo reggimento di fanteria oltre ai carabinieri e alle guardie di città. La sera del 31 luglio il dottor Sciaccia procedette all'imbalsamazione del corpo di padre Gioacchino. Il primo agosto il suo corpo fu portato a spalla al cimitero. Il corteo al quale partecipò una folla immensa durò tre ore. Nella piazza principale il sacerdote Giuseppe Pagano e l'avvocato Marco Testa Secca pronunciarono l'elogio funebre. Sono passati 112 anni dalla morte di padre Gioacchino Lalomia e la città di Canicattino ricorda con una serie di iniziative tra oggi e domani. Come ogni anno il 29 cioè la vigilia della morte di padre Gioacchino alle ore 21 ci ritroveremo in piazza 4 novembre per celebrare il transito di padre Gioacchino cioè la morte di padre Gioacchino. Da lì da piazza 4 novembre ci muoveremo verso il santuario dove ci sarà un breve momento di preghiera e poi ecco ci sarà anche un momento di fraternità una degustazione di qualcosa di prodotti tipici in modo da stare insieme un po' appunto in fraternità come sicuramente gradirebbe padre Gioacchino. Poi giorno 30 la domenica alle 7 del mattino iniziamo con la messa celebrata presso la casa natale e poi ci sarà il pellegrinaggio dalla casa natale fino al santuario. Io dico che in modo particolare questo pellegrinaggio è per coloro che hanno fatto il voto a padre Gioacchino di fare il pellegrinaggio a piedi scalzi e quindi è l'occasione buona per ritrovarci tutti in preghiera ancora una volta e venire a fare una preghiera qui alla tomba di padre Gioacchino. La domenica 30 poi le messe saranno regolarmente qui in santuario come tutte le domeniche alle 8 alle 11 e 30 ma la messa solenne della festa è appunto alle ore 19 e quest'anno sarà preseduta dal vicario generale della nostra di oggi Simon Signor Melchiorre Vutera. Dopo la messa ci sarà verso le 21 uno spettacolo molto bello dove in particolare si esibirà il cantastorie canicattinese Mimmo Asaro che ci presenterà in dialetto la vita di padre Gioacchino quindi sarà una cosa molto interessante ma ci sarà questo e tanto altro. Alla fine dello spettacolo ci sarà il sorteggio.